green pass obbligatorio aziende in difficoltà in vista del 15 ottobre gabice no pass imbrattano il municipio con scritte offensive fondi europei regione a confronto coi territori per gli investimenti lo sport visital service sugli scudi male la vl una buona serata a tutti voi telespettatori e telespettatrici di rossini tv che ci seguite sul canale 633 del digitale terrestre ben ritrovati a rossini news telegiornale di lunedì 11 ottobre un lunedì contrassegnato da diversi disagi nel trasporto pubblico a causa dello sciopero nazionale indetto dai sindacati gob covas legati appunto alla categoria si sono fermati in questa giornata autobus treni ma anche uffici pubblici in uno sciopero discrezionale nel quale ad esempio la stessa adriabus ha comunque provveduto ad avvertire anzitempo l'utenza di un fermo in cui non sarebbero state garantite le corse degli autobus fra le 8 e 30 e le 17 e dalle 20 fino al termine del servizio e mancano quattro giorni al via del green pass obbligatorio in tutti gli ambienti lavorativi una marcia d'avvicinamento che però è piena di ostacoli di difficoltà in tutti i settori produttivi come ci spiega in questa intervista il presidente di confindustria pesaro urbino mauro papalini come confindustria siamo a conoscenza che c'è una buona parte di persone non vaccinate e per per venire al lavoro sono obbligati a un tampone periodico che ha una durata dai due ai tre giorni ecco su questo cerchiamo di organizzare dei punti di degli hub dove è possibile attraverso degli infermieri dare la possibilità di poter far tamponare quelle persone che al momento non non hanno ritenuto opportuno di doversi vaccinare per l'impresa chiaramente un po' di difficoltà c'è c'è uno perché non sappiamo chi è munito di green pass permanente diciamo con lunga durata e chi non non lo è pertanto questo rende più difficoltoso anche la programmazione delle attività su questo c'è un un confronto che stiamo facendo con anche le forze sindacali per riuscire quantomeno a trovare un punto di convergenza a far sì che questo problema diventi diventi non un problema ma un qualcosa che si possa tranquillamente introdurre all'interno delle delle attività con le persone dando le persone la possibilità di potersi fare il tampone e venire a lavorare le farmacie non riusciranno credo per il numero di persone non vaccinate a sopperire questo questa affluenza di persone che si vogliono vogliono tenere il green pass attraverso il tampone perché non c'è solo il dipendente dell'impresa privata ma anche quello pubblico e nelle imprese difficilmente in ambito produttivo è difficile fare delle attività in smart working pertanto la presenza obbligatoria cercheremo ecco appunto di dare tutto il sostegno possibile come confindustria alle imprese e ai collaboratori delle imprese per poter facilitare con dei punti di incontro per il tampone e non solo Mauro Papalini anche Amerigo Varotti direttore di Confcommercio Marche Nord attraverso una nota stampa pubblicata oggi si dice molto preoccupato degli effetti negativi che le disposizioni legislative in tema di green pass avranno sulla sopravvivenza delle aziende ad esempio quelle associate a Confcommercio secondo Varotti non è possibile sostituire il personale che dovremmo lasciare a casa per la personale scelta di non vaccinarsi certo le disposizioni danno la possibilità di sostituzioni nelle imprese sotto i 15 dipendenti ma la professionalità dei collaboratori non la si ritrova così facilmente oltretutto nell'immediato e per un breve periodo secondo Varotti si creeranno dunque enormi problemi come il ricorso a ferie e permessi e lo stesso Varotti invita con urgenza a rivedere tali disposizioni ad esempio allungando la validità dei tamponi da 48 a 72 ore oppure autorizzando i test nasali all'interno delle aziende. I gnoti vandali presumibilmente legati ai movimenti no pass hanno imbrattato con scritte offensive e intimidatorie le sedi dei municipi di Gabiccemare e di Cattolica. Il sindaco gabiccese Domenico Pascuzzi attraverso un post sul suo profilo facebook ha stigmatizzato il gesto come inqualificabile e ignobile fatto da vigliacchi e codardi che si nascondono dietro l'anonimato e le loro personali frustrazioni. Con l'aiuto delle telecamere dice Pascuzzi non avremo difficoltà a individuarli a procedere nelle sedi più opportune e non si tralasceranno né si permetteranno che si ripetano simili episodi. Questo dice Pascuzzi è quello che succede in questi giorni in tutta Italia in un clima di violenza crescente che andrà fermato in ogni sede. E contro gli estremismi in particolare quelli guidati da Forza Nuova che sabato sera hanno assaltato a Roma la sede della CGL nazionale c'è stata ieri una manifestazione con presidio alla CGL provinciale così come in tante altre sedi sindacali italiane in difesa della democrazia. Presente nell'occasione anche il sindaco di Pesaro Matteo Ricci che ha lanciato un appello a sciogliere le organizzazioni e i gruppi neofascisti a salvaguardia della democrazia di tutto il paese e ha annunciato la partecipazione del comune di Pesaro alla manifestazione nazionale antifascista per il lavoro e la democrazia che si terrà sabato 16 ottobre a Roma. E come di consueto ogni lunedì si abbassa la soglia dei contagi da Covid-19 nella regione Marche in relazione ai pochissimi tamponi processati nel weekend. Sono infatti appena 17 i nuovi casi rilevati oggi nessuno dei quali in provincia di Pesaro Urbino a fronte di 718 test effettuati. Stabili i ricoveri con 56 pazienti di indegenza di cui 12 in terapia intensiva. Purtroppo oggi si è registrato un decesso si tratta di una donna del Fermano di 89 anni. Incontri nelle scuole, nei quartieri con artisti o con associazioni culturali coinvolgendo anche il resto del territorio provinciale. Così Pesaro si prepara a stilare il suo dossier di candidatura capitale italiana della cultura 2024 come ci spiega in questa intervista il vice sindaco Daniele Vimini che è stato appunto interpellato ai microfoni di Edoardo Orazzi. Sono state settimane di lavoro intenso in cui attraverso residenze, call, incontri nelle scuole si è cercato di fare emergere un po' l'anima di questa candidatura che non è solamente una fotografia delle bellezze della città, non è un concorso di bellezza rispetto alle istituzioni culturali a quanto di prestigioso abbiamo ma anzi è una sfida a raccontare anche la Pesaro che non c'è nel senso la Pesaro che vorremmo immaginare, la Pesaro dell'immaginario, la Pesaro che manca magari a tanti aspetti anche giovanili, culturali che hanno bisogno di maggiore voce, maggiore possibilità di esprimersi. Abbiamo tenuto al centro anche temi classici ma guardati al futuro come la grafica, come l'architettura, come il design, elementi che hanno in vari momenti fatto anche una cifra particolare via riconoscibilità di Pesaro a livello nazionale ma anche questi pensando li proiettati al futuro e proiettati su quello che vorremmo essere come Capitale 2024 guardando anche all'obiettivo poi di Capitale Europea 2033 su cui abbiamo iniziato a lavorare con Urbino, con Fano, con le realtà più importanti della provincia. L'idea quindi di una candidatura collettiva e che possa al di là della tempistica del primo dossier da presentare all'ottobre però dalla presentazione del dossier fino a gennaio quando si giocheranno un po' i tempi poi della short list per arrivare alla nomina all'inizio della primavera poter anche iniziare a esercitare un po' questo programma muovendoci nel resto del territorio provinciale, muovendoci in collaborazione con le proposte arrivate dagli altri comuni per iniziare a dare vita a quello che insomma se tutto andrà bene anche se la sfida sarà molto complicata potrà diventare un anno straordinario ma che in ogni caso sarà una programmazione ad ampio respiro dove appunto Pesaro si apre assieme a Fano, Urbino e i comuni della provincia per immaginare comunque un territorio vivo e creativo e fertile dal punto di vista della cultura che ripeto si avrà anche l'incoronazione della Capitale Italiana tanto meglio ma in ogni caso sarà importante aver avviato questo lavoro perché sicuramente se lo ritroveremo e sarà utile appunto non avere proprie reti culturali in tutta la provincia. Ed ora vi mostriamo un nostro servizio d'approfondimento in merito alla programmazione dei fondi europei 2021-2027 da parte della Regione Marche. Una Regione che da un incontro al Teatro Sanzio di Urbino di questo weekend ha cominciato a confrontarsi con i territori per organizzare gli investimenti di queste importanti risorse. In ballo ci sono un miliardo e 102 milioni di euro. A tanto ammonta l'opportunità unica che ha la Regione Marche nel beneficiare di nuovi fondi europei da qui al 2027. C'è una lista di interventi da programmare e la Regione sta organizzando il suo palinsesto operativo partendo dal confronto con i territori. Nel weekend c'è stata la prima tappa di ascolto ad Urbino dove al Teatro Sanzio si sono riuniti sindaci e associazioni per ascoltare opportunità e avanzare proposte all'amministrazione. Sì è un momento di ascolto e di coinvolgimento rispetto a una fase che ritengo fondamentale e dove dobbiamo fare sinergia, fare squadra per riuscire a mettere in campo nella migliore progettualità le risorse dei prossimi sette anni che l'Europa ci consegna. Le Marche in questo momento sono una regione in transizione, significa avere più risorse ma significa anche dover recuperare il tempo perduto e forse anche proprio un'incapacità di utilizzare bene queste opportunità. Quindi è giusto fare squadra, fare sinergia però rispettando una visione che è la visione che noi abbiamo chiesto a tutti quelli che ci chiedono in continuo di poter raggiungere appunto un livello di progettazione che sappia riportare la nostra ragione, tutti i nostri territori ad essere competitivi. Nel nuovo quadro comunitario 21-27 saranno addirittura più del 76% i denari, le risorse che saranno messe a disposizione dall'Europa alle Marche rispetto a quello che era accaduto nel precedente programma comunitario 2014-20. Questo è accaduto perché purtroppo la regione nella classifica delle regioni europee è stata in qualche misura declassata tra le aree in transizione. Questo non è stata una buona cosa sicuramente ma negli ultimi anni la crisi ha picchiato duro nelle Marche e ha prodotto questo effetto che tuttavia si porta con sé questa messe di denaro che ora la regione deve organizzare al meglio proprio perché imprese, cittadini, comuni, province possano utilizzare queste risorse nel modo migliore. La regione è qui proprio per ascoltare, per valutare ciò che è necessario per poter programmare quelle risorse in maniera tale che non si perda l'occasione storica che stiamo vivendo. Fra l'altro queste risorse si abbinano al PNR che già di per sé prevede e consente l'attingimento di tanto denaro per quanto riguarda la nostra regione. Da questo punto di vista i tempi che ci portano qui sono quelli di dicembre e messe entro il quale avremo la possibilità di un accordo di partenariato che sarà siglato tra l'Italia e l'Unione Europea. Da quel momento si avvieranno tutta una serie di considerazioni politiche e amministrative per arrivare alla stesura dei cosiddetti POR, Piani Operativi Regionali. E noi siamo qui proprio per concepire preventivamente il POR in maniera tale che comporti anche la riflessione, il contributo di tanti comuni e delle categorie che saranno protagonisti di questa stagione. Tra i settori di maggior interesse per i comuni ci sono investimenti per efficientamento energetico ed energie rinnovabili in un piano di risorse che spazierà dal Fondo Sociale Europeo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale passando per il PNRR al Piano di Sviluppo Rurale. Oggi siamo felici come amministratori di incontrare il Presidente, di capire insieme ai funzionari, all'assessore, quindi Castelli, per ascoltare e per anche dire la nostra opinione su quelle che sono le esigenze del territorio. Quindi proveniamo da una riunione fatta all'Unione Montana con i dieci sindaci dell'Unione Montana dell'Alto Metauro, anche lì per parlare di tante cose ma della viabilità, della sanità e quindi un ascolto del Presidente veramente che è stato molto apprezzato anche in quell'occasione, non più di tre ore fa, appunto perché evidentemente questa amministrazione regionale vuole essere vicino al territorio e lavorare insieme ai sindaci che rappresentano tutti i cittadini di questi territori, che abbiamo grande bisogno di essere ascoltati, non noi come sindaci ma come rappresentanti del territorio. Nelle telegiornale Rossini News di venerdì vi avevamo dato conto dei dati di quest'anno per quel che riguarda infortuni sul lavoro e contagi da Covid nei luoghi di impiego per quello che riguarda appunto il nostro territorio. Numeri come quelli di 22 decessi e 10.000 denunce di infortunio nelle Marche nei primi nove mesi del 2021, dati che sono stati analizzati in occasione della 71esima giornata nazionale delle vittime degli incidenti sul lavoro che l'Anmil Pesaro ha celebrato ieri con una commemorazione al monumento dedicato in piazzale 1 maggio e con un momento di dibattito al Centro Arti Visive Pescherie alla presenza tra gli altri della senatrice Rossella Accoto e dell'assessore regionale al lavoro Stefano Aguzzi. Sabato al collegio Raffaello di Urbino l'Associazione Nazionale della Polizia di Stato Provinciale ha celebrato il cinquantesimo anniversario della sua Costituzione. Nell'occasione sono state intitolate le sedi AMPS di Pesaro e del gruppo territoriale di Urbino rispettivamente alla Guardia di Pubblica Sicurezza Michele Marinaro caduto nell'anno 1949 a Portella della Paglia di Monreale a seguito di un conflitto a fuoco con alcuni membri della famigerata Banda Giuliano nonché al sovrintendente capo della Polizia di Stato Emanuele Petri medaglia d'oro al valore civile a sua volta caduto nel 2003 sul treno Roma-Firenze a seguito di un conflitto a fuoco con due terroristi delle Brigate Rosse. Le intitolazioni sono state celebrate con lo scoprimento delle targhe dedicate ai due eroi alla presenza dei loro familiari. Presenti tra gli altri anche il questore Michele Todisco e il Presidente Nazionale dell'AMPS Michele Paternoster. Ed ora lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni che come sempre vi invitiamo a inviarci al numero whatsapp dedicato 370-366-7210. Segnalazioni che sempre più spesso si riferiscono ad incivili episodi di abbandono di rifiuti. È il caso di queste foto che ci ha inviato una nostra telespettatrice che ci ricorda come in via Petrucci a fianco alla chiesa del nome di Dio avvenga questo sistematico abbandono di immondizia nel cuore del centro storico. La telespettatrice ha presentato denuncia ma vuole accendere l'attenzione sul fatto che questi episodi continuano a ripetersi. Ieri a Villa Berloni le telecamere di Rossini TV hanno seguito il convegno il benessere in andropausa. Un partecipato momento dedicato alla medicina generale organizzato dalle associazioni provinciali di Confcommercio 50 e più, Terziario Donna e gruppo Salute, bellezza e benessere. Un appuntamento che potrete seguire attraverso uno speciale dedicato che Rossini TV trasmetterà nei prossimi giorni ma intanto vi offriamo un estratto del servizio realizzato da Antonio Astuti. Più vita agli anni, questo è il titolo del convegno che abbiamo avuto l'opportunità, possiamo dire tranquillamente la fortuna di seguire nella sua interezza, il benessere dell'uomo in andropausa. Un momento di incontro organizzato dall'associazione 50 e più e da Terziario Donna afferenti a Confcommercio e da benessere in andropausa di Stella Scarpa. Un convegno davvero bello, un convegno entusiasmante perché ha dimostrato quanto la trasversalità, la comunione di intenti possa ottenere dei grandi risultati. Per i nostri 320.000 iscritti in Italia e quasi 4.000 nella provincia di Pesaro organizziamo eventi di questo genere proprio per divulgare ed informare i nostri associati su tematiche che hanno una rilevanza. Essendo noi ultra cinquantenni è chiaro che tutte le problematiche relative all'andropausa rientrano tra le tematiche che sono di un certo interesse per la nostra platea. Indubbiamente è un argomento quello dell'ipogonadismo nell'anziano di estremo interesse. È un qualcosa ancora di non perfettamente definito, nel senso che noi siamo oramai coscienti che col passare degli anni i livelli di testosterone prodotti dalla gonade maschile tendono a diminuire. È vero che se vogliamo fare un paragone così speculare con quello che succede nella donna, questo non è assolutamente paragonabile, nel senso che la funzione testicolare non cessa. Così nell'arco di uno o due anni come succede alla donna praticamente, cioè l'andropausa intesa come immagine speculare della menopausa non esiste, però esiste sicuramente un calo della produzione di testosterone. Per noi è fondamentale far passare un determinato concetto, cioè quindi apportiamo vita agli anni e meno possibile anni alla vita. Sappiamo che il 70% del nostro invecchiamento è influenzato da singole scelte proprio predisposte dall'individuo, quindi siamo noi i protagonisti della nostra salute. Il 30% soltanto c'entra la genetica. Questo cosa vuol dire? Che se noi non portiamo l'utente a conoscenza di quali possono essere gli stimoli giusti da intraprendere nel nostro quotidiano e professare un giusto e corretto e in linea con quello che stiamo proclamando anche stesso oggi di stile di vita consapevole, non possiamo arrivare a questo nostro importante focus. E come ogni lunedì tanto spazio dedicato allo sport dopo un weekend rivelatosi negativo per la VL, invece felice sia per la Vise sia per il debutto stagionale dell'Ital Service. Nella pallavolo invece esordio con sconfitta a testa alta per quel che riguarda la Megabox Vallefoglia. È durato quattro giorni l'idillio della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro, reduce dalla vittoria infrasettimanale con Trieste. Nella domenica di Bologna la Fortitudo riporta la VL sulla terra, imponendole un severo 87-66 con i pesaresi in partita fino al quarto quarto, dove poi crollano con un finale negativo. A salvarsi solo le prestazioni di Moretti e di Capitan Delfino. Dal basket al calcio la Vispesaro conquista la sua terza vittoria stagionale, nonché la seconda consecutiva che le consente di fare capolino in zona play-off, confermando di essere davvero in un bel momento. A Lucca arriva una vittoria in rimonta allo svantaggio maturato su calcio d'angolo di Bellic dopo sei minuti. La Vispesaro risale alla china pareggiando con Manetta nel corso del primo tempo e trova il premio massimo con l'incornata vincente di Gucci su calcio d'angolo a 10 minuti dal novantesimo. Ci sono sempre due partite, quella tecnico-tattica e quella emotiva. I ragazzi sono stati strepitosi, hanno giocato una partita dove va in svantaggio contro una squadra forte in un ambiente difficile e quindi hanno saputo interpretare e riconoscere bene i momenti in cui si poteva approfittare, i momenti in cui bisognava tenere la palla e i momenti in cui bisognava difendersi. Sono stati strepitosi, si sono aiutati, hanno corso, hanno lottato e soprattutto ci hanno creduto. Dopodiché erano sette partite che aspettavamo un corso per la inattiva e con il suo angolo e sono arrivati tutti e due insieme, quindi è bene così. Buon risultato anche per il Fano che nel campionato di Serie D pareggia 1-1 a Chieti. Vantaggio Granata di Tortori a fine primo tempo, pareggio Abruzzese a inizio ripresa e Alma che tiene, nonostante più di mezz'ora, giocata in dieci per l'espulsione di Delli Carri. Ma è stata anche una domenica contrassegnata dallo start di due campionati. Quello della Megabox Vallefoglia che al debutto nella Serie A1 di pallavolo femminile si è trovata di fronte un Everest da scalare. Le campionesse d'Italia ed Europa di Conegliano hanno vinto in tre set, ma la Megabox ha saputo mostrarsi all'altezza dell'impegno proibitivo. Prima di campionato vincente invece per l'Ital Service che nella massima serie di calcio a 5 ha battuto 3-0 Napoli nell'arena di Salso Maggiore grazie alle reti di Canal, Borruto e Fortini. Dulcis in fundo, il weekend ha regalato anche una giovane pesarese incoronata campionessa del mondo. La disciplina è quella del beach tennis dove Giulia Renzi, dopo aver vinto il campionato europeo Under 18 a Sofia e il titolo mondiale in coppia Under 18 a Terracina svoltisi a settembre si è ora laureate anche campionessa mondiale a squadre Under 18 nella Kermes tenutasi a Rio de Janeiro. E con lo sport si conclude qui questa nostra edizione del telegiornale Rossini News. Prima di salutarci vi ricordiamo la nostra prima serata che è dedicata all'ultima puntata del format L'Arte della Bellezza. Dunque non perdetevi questa ultima puntata alle 21.15 e poi volendo in replica con tanti appuntamenti che appunto saranno riproposti in tutti i giorni di questa settimana come potete vedere in grafica. L'informazione su Rossini TV torna invece puntuale domattina con Buongiorno Rossini. Il nostro appuntamento quotidiano in diretta a partire dalle 7.20 con la rassegna stampa dei quotidiani locali della provincia di Pesaro e Urbino. Primo appuntamento alle 7.20 e poi le repliche le vedete in grafica alle 8.15, alle 12.30, alle 14 e alle 18. Ed è davvero tutto per questa nostra edizione del telegiornale Rossini News. Da parte mia e di tutta la redazione vi auguro un più cordiale saluto e una buona continuazione di serata con i nostri programmi.